Ciao a tutti da Xeltras e benvenuti in questo nuovo video, riprendiamo con Dareland, Tiringland per gli amici Dovremmo essere alle battute finali, quindi penso che con questo video dovremmo concludere qui la faccenda Allora, siamo usciti dalla palude, proseguiamo e vediamo che succede Allora, questo ce l'abbiamo, lo possiamo... Qualcuno sta urlando, il Tiring è proprio abbonda, cos'è qui? Parte la musichetta Vediamo un attimo Segui le urla Sto arrivando, vediamo che succede Allora, qua c'è una... se andiamo qua Boh, andiamo un attimo qua prima, forse... Infatti questa non è la via Ragazzi, io sto, diciamo, pubblicando poco in questo periodo perché sono intrippato su Fortnite Quindi sto sempre... se qualcuno di voi ci gioca mi trovate sempre lì Non so, vorrei pubblicare qualcosa appunto, ma non so cosa Hanno cambiato, diciamo, hanno aggiunto nuove... sapete, penso mai a di me, no? È iniziata la seconda stagione del capitolo 5, hanno aggiunto nuove cose, ma... Non so se ci farò un video... Ok, eh Poi vediamo, comunque, quindi... Finiamo... intanto quanto... Diciamo... Finiamo questo titolo, passiamo ad altro Vorrei portare un horror indie, proprio di quelli vecchi ostile, ma... Non so, vediamo Forte, comunque, ci sto giocando, eh E cazzo Bene, così Ma quanti sono? Cos'è qua? Ah Ma scolopendra gigante, vabbè, passano tutti da qua questi, quindi Dai Una baionetta one shot, eh Questo? Eh, questo è... Chi è? Capo tribù, chi è questo? Dove vai? Che fai? Non dice niente Ci sta aiutando, forse Era lei che urlava? Ma parla? Speak English? No Vabbè, ci aiuta, eh Sarà qualcuno che... Vediamo un attimo Non c'è niente qua, eh La musichetta non se ne va Qua si scende? Ok, ma... La tizia dove è andata? Se n'è andata, che ha fatto? Eccola Eh, ci dà il segnalino, ma... Forse... Ci dica qualcosa Boh Andiamo per fatti nostri, allora Proviamo a scendere, no Qui ci facciamo male O siamo qua C'è qualcosa appeso Simboli Ok, quindi dovrebbe essere un enigma Ma si ruotano? No Vabbè, ma sempre gli stessi enigmi sono Cioè, si tratta sempre di ruotare I pali di legno Boh Mi sarei aspettato qualcosa di... Non dico ai livelli di fobia, ma... Allora, vediamo un attimo Sempre la stessa cosa Allora No Che hanno aggiunto qua? Ah Ok, relativo a questo Questo Vediamo, vediamo Torniamo un attimo indietro Questo cos'è? Trattino c'è? No, questa è una E' lì il trattino X Ah, ok Forse... Vediamo un attimo Perché sono tre Io ho due stanghette Due stanghette Due stanghette U puntato Poi X E l'altro che cos'è? Vediamo un attimo Due stanghette Ah, parte così Eh, non parla Eh, come li chiami Jeremy Jeremy Mi chiami è Jeremy Ma qual'è il tuo nome? S-Sicoya Taisha S-Sicoya Taisha Capito Cos'è? Eh, Ethan Ah, è il tuo nome Che è il tuo nome Di chi è questo? Di Ethan Si è ancora Jacopo Altri tu che è sparita Tearing proprio Cos'era questo? Quello era l'orologio di Ethan Cerca Taisha Ethan deve stare con lei Ma non si è aperto Oh, eccolo L'altro che mancava Eh, mi sembrava strano Mi sembrava strano Allora, quindi qua c'erano Due stanghette Due stanghette Questo Ok No, rivediamo un attimo Perché poi c'è stato Quell'intermezzo Eh, ma questo è un po' diverso Qua stiamo sottovalutando Ma Allora, forse ci siamo Qui dopo vari tentativi Ho visto che Non se ne veniva Fuori Quindi Ho provato a sfruttare La direzione delle pietre Qui E sfruttare un po' L'ambiente circostante Perché ci sono queste Diciamo Non so cosa sono Tronchi Mezzi tronchi Appesi Che appunto Bisogna Sfruttare No Se vuoi guardate qui Ogni pietra di queste Diciamo In cui ci sono dei simboli Hanno delle Pietre che Diciamo In rilievo Che puntano in una direzione Poi bisogna posizionarsi Nella direzione in cui puntano E vedere se c'è Un simbolo corrispondente Vedete qui c'è una X Ok U puntato X Quindi U puntato deve essere su X Il 2 Non lo scartiamo Perché fa parte Del Appunto Dell'insieme Ho puntato No E qua ce la dà Anche la X Un po' In maniera un po' Beffarda Quindi ho puntato X Ok Poi c'è I Ci posizioniamo Vedete E c'è la tilde Ok Si posizioniamo in direzione In cui puntano le pietre Come a formare Una sorta di freccia E quindi Lo puntiamo Sulla tilde Beh Questo è Diciamo Un enigma Interessante Diciamo Una maniera intelligente Di usare L'enigma Anche Diciamo Utilizzando Gli stessi Modi Quindi Adesso rimane La T Qui ci sono Un po' di pietre Ma Le dobbiamo scartare Posizioniamoci Sulla T Che vedete Ci dà il cerchio Quindi Dovrebbe aprirsi E infatti Si apre Bene Proseguiamo Finalmente No Che stai facendo Sembra tutto Tranquillo Vediamo Cosa sta accadendo Cosa sta accadendo Lì c'è qualcosa Che va a fuoco Stanno facendo Qua Questi Qua Questi Proseguiamo Qui Questo ok una leva per aprire ma dove dobbiamo andare andiamo qua e ma qui non si va dove c'è andava dall'altra parte e infatti ma non si apre? ci vuole un'altra? no dovevamo uscire qua un masso ci hanno tirato un masso gigante addosso qua non so cioè dovevamo uscire da lì per far partire l'intermezzo vabbè ah e quindi finiamo appesi come all'inizio del gioco no ci hanno messo ad essiccare non possiamo muovere niente ok ci libera? ci ha dato il fucile che dobbiamo fare? no quindi ci ha liberato proseguiamo qua questo indaga sul tempio e vattene il prima possibile ci serve una leva però di che stanno facendo qui si va? guardiamo qua ecco qui si può andare questo non salta non fa niente si abbassa solamente no eh ma dove va? c'è va qua? ah ecco la leva cosa da leggere? no vabbè andiamo un attimo di corso allora apriamo qua dov'è? dov'è? accovacciati ah quindi fa meno rumore accovacciato ah qui ci sono i tizi andiamo a fare una cosa furtiva eh ma quanti sono questi? ma se tipo li prendiamo io so piatto? cazzo proviamo dai no questi ci ammazzano male no no non li possiamo proprio colpire dobbiamo fare una cosa furtiva passiamo qua quanti sono questi? qui si può rompere ok eh ma gli sbrighi munizioni qui si può rompere no no qua non si va bloccato no questo ma la leva come la prendo no 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 Forse c'è un passaggio qui che non abbiamo visto C'è un passaggio qui è un passaggio Dai, spiegati. C'è un fucile, ma le munizioni non ci sono. C'è un fucile, ma le munizioni non ci sono. C'è un fucile, ma le munizioni non ci sono. C'è un fucile, ma le munizioni non ci sono. C'è un fucile, ma le munizioni non ci sono. Non scappa qui. Ma le munizioni non ci sono. No, ma qui si rompe. Vabbè, appena sfiorata e moriamo. Non ci sono. Lasciamo perdere. Cioè, nemmeno a saltare. Dobbiamo prendere un coso lì, eh? Un pezzo di tavola. 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 Ah, ma dobbiamo bruciare, forse? No. Torce da prendere? Ah, ecco. No, prendi la torcia. No, fa da solo bene. C'è l'erba alta, sai com'è? Non si passa, bisogna bruciarla. Finito? Eh, dai. Vooden Mug. Una tazza scolpita nel legno e apparentemente levicata con presumibilmente sabbia. Il bordo superiore è un po' troppo sottile e quasi affilato per essere comodo oppure avendo anche una serie di tacche dovute all'uso prolungato. Il legno stesso sembra mascio per essere stato lasciato fuori troppo a lungo senza essere rivestito con alcun tipo di dropellente. Ragazzi, qui il gioco è tradotto con gli A, per cui le frasi sono un po', diciamo, un po' così, quindi facciamo finta di nulla. Piano, quasi senza suono, Jeremy mise un piede dopo l'altro. Ok. I suoni della giungla che lo circondava e la terra compatta ma leggermente umida sotto i suoi piedi attutivano e mascheravano quei pochi suoni che non riusciva ancora a impedire di far travelare. Non era mai stato tipo da sgattaiolare in giro, figuriamoci farlo in un ambiente con una vera posta in gioco, ma l'isola lo aveva costretto ad adattarsi, ad imparare a nascondere la sua presenza o morire provandoci. E così si ritrova qui, cercando di sgattaiolare oltre un altro gigantesco ostacolo, questa volta sotto forma di uno degli indigeni, a guardia di una parte del loro tempio. Nella luce fiocca della sera, con lunghe ombre che tremolavano la luce delle torce montate a parete, era facile non farsi vedere, ma la scarsa visibilità rendeva ancora più difficile ridurre al minimo i suoni. Una lunga giornata piena con l'adrenalina e un sacco di situazioni pericolose aveva lasciato Jeremy esausto e nella disattenzione gli errori erano destinati a verificarsi. Vabbè, qua proprio. Nella luce fiocca mancò un ramoscello, per quanto piccolo potesse essere, ma quando vi posò il piede sopra il suono che fece, fu più vicino a quello di uno sparo di una pistola. Scrolliamo con il mouse. Si mobilizzò. Ogni muscolo del suo colpo si tese e nel suo respiro gli sfuggì. Sbattendo la testa verso la guardia, osservò l'uomo che iniziava a voltarsi, il viso avvolto da un'ombra tremolante. Dovevano essersi guardati negli occhi almeno per qualche secondo. Jeremy ne fu sicuro prima che la guardia continuasse a fare un giro completo, dando un'occhiata all'aria circostante prima di tornare a ciò che aveva tenuto l'occhio in precedenza. Passato il pericolo immediato, quello che prima era stato un fastidio rassegnato, estanco cominciò a deformarsi dentro il giovane avventuriero. Cambiare, evolvere in qualcosa di molto più grande, molto più viscoso. Tutti quei sentimenti repressi che erano stati tenuti rinchiusi nei recessi più profondi della mente del giovane ribollirono in superficie e la sua vista si tinse di rosso. Non era giusto. Tutto quello che voleva era una dannata piccola avventura e ora eccolo qui. Tra barbari tribali assassini, l'inferno verde che era la giungla e la fauna selvatica che lo avrebbe ucciso se avesse respirato nel modo sbagliato. Perché rendola ancora più difficile con se stesso? Perché fregarsene di questa dannata guardia? Tenderebbe tutto molto più facile semplicemente raccogliere una delle grosse pietre che ricoprirono il terreno e dipingerla per darle un bel manto rosso. Per gentile concezione della testa delle varie frasi un po' sconnesse comunque. Con respiri pesanti ma silenziosi, Germi si chinò lentamente. Le sue dita si arricciarono attorno a una roccia particolarmente affilata. Rimettendosi in piedi iniziò a rigirarselo in mano, cercando di trovare la migliore presa possibile. La vista del giovane penetrava nella schiena della guardia a pochi metri da lui. Le torce danzanti gli davano la luce appena sufficiente per stimare la distanza e la potenza di cui avrebbe avuto bisogno per lasciare un buco. Di circa 5-15 cm di diametro nella schiena. Il testo della guardia. Nella schiena a punto del testo della guardia. Anche senza fiato, l'avventuriero tirò indietro la mano, preparandosi a portare a termine il suo piano impobbrisato. Il grido di un babbuino particolarmente rumoroso strappò violentamente Germi dalla sua trance. giurò lentamente la testa, posando lo sguardo sulla pietra che stava per lanciare e le implicazioni di ciò che stava per fare gli risuogliarono ogni forza. Tutto quello che poteva fare era non far cadere il sasso mentre lottava per non vomitare violentemente. Posando di nuovo la pietra a terra si affrettò, facendo del suo meglio per bandire dietro di se questo presunto errore di giudizio non lo farebbe mai. Vabbè, frasi proprio spesso non senza, quindi... Arriviamoci su, torniamo indietro. Questi adesso immagino che stanno tutti qua. Ma si muove, se ne va, che deve fare? No, possiamo salire qui adesso. Bene. Ah, siamo usciti dall'altra parte. Eh, ma a me mi serve quella però. Mi serve la leva. Putta qua. Ok, vediamo che succede. Un altro cancello. Libra Ethan dai suoi legami. Quali legami? Legami con il passato. Vediamo se troviamo qualcosa. Vediamo se troviamo qualcosa. No. No. Aspetta. Ci sei? Proteggi, Edna, lascia il tempio con lui. Ma noi siamo senza munizioni. Ci hanno trovato, dobbiamo correre qui, ci lascia le penne però, lui, eh. Come all'inizio, no? Sì, perché lui adesso è... Non ce la fa. Come all'inizio, come all'inizio, come all'inizio. Eh, ormai... Eh, ormai... Eh, ormai... Eh, ma non possiamo... Cioè, se torniamo indietro ci fanno fuori pure a noi, quindi scappiamo... Cambo elevato e qua che succede? Cioè, se torniamo... Ci sono i coccodrilli qua. Una paluta, cuz, è disgustosa. Lì ha passato qualcuno, eh. Oh, che... Cioè, se torniamo a salvare la pelle qui intanto, poi vediamo. C'è qualcuno? C'è qualcuno? Ma cos'era? Ma cos'era? Ma cos'era? Ma una piaura gigante cos'era? Ma cos'era? Ma cos'era? Ho bisogno di fuori da qui! Ok, figlio. Prendi sta leva, dai. Ma uno di loro è già qui. Trovo due leve mancanti. Trovo due leve mancanti. No. No. Morsi. è una sta qua no la palude sali qua due colpi non è che ci facciamo che anche ok ma la torcia dove sta noi dobbiamo prendere una torcia e bruciare lì come la prendiamo no brigate allora ragazzi ci fermiamo qui per oggi perché altrimenti il video viene troppo lungo e non penso che termini qui perché da quello che ho visto il gioco continua per cui meglio finire qui vediamo nel prossimo video se riusciamo a terminarlo così passiamo ad altro perché appunto vorrei portare un altro titolo quindi per oggi io vi saluto qui alla prossima